no 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 mi piange il cuore posso dire sono pessima per non dire altro ma di cosa stiamo parlando è la life hello everyone rieccomi tornata con un nuovo video come state spero tutto bene come avete passato questa giornata spero bene allora ragazzi oggi dopo un sacco di tempo una miriade di tempo sono tornata un'altra volta con il video di slime dei fan ed era tantissimo che non ne aprivo infatti avevo la busta lì e mi sono decisa dopo tanto tempo di aprirli allora per questo video mi raccomando raggiungiamo tantissimi like non dimenticate di spolliciare sotto questo video e di iscrivervi al canale e di attivare la campanella quella vicino ovviamente a tastino iscriviti e attivare tutte le notifiche mi raccomando così riceverete per primo le notifiche dei miei video allora che dire innanzitutto buona domenica come avete passato la vostra domenica non lo so se sotto questo video ci saranno i commenti però come avete passato la vostra domenica se non ci sono i commenti fatemelo sapere su instagram mi chiamo yolanda switch trattino a basso official prima di tutto vi volevo far vedere una cosa ossia questo kit che è un kit che mi ha regalato diciamo che la maggior parte degli slime sono un po tutti vecchi del 2019 anche perché nel 2020 ossia adesso non ho fatto ancora incontri ma restate connessi perché a breve vi annuncerò delle nuove date dove ci possiamo incontrare quindi state connessi mi raccomando allora questo è un kit che mi ha regalato chiara che è una ragazzina dolcissima dove ci sono tutte le cose dentro poi magari in un video andrà ad utilizzare le sue cose solo che ve lo volevo far vedere partiamo da questi due slime piccolini ci sono alcuni slime anche abbastanza grandicelli allora questo slime è ah ragazzi però vi volevo dire una cosa mi raccomando lasciate i pollici in su perché fate vedere come fate parte della switz family o mio dio ho già toccato questo slime ed è bellissimo scusami non ho letto il nome questo slime è per te da roberta penso sia la stessa vediamo se tu ok entrambi lo slime da roberta questo è arancione e questo è giallo no mannaggia questo si è indurito forse questo è fatto con la colla villica però oh mio dio ma questo slime è la life elastica ma non troppo scoppiettante e morbida vediamo questo ingredienti oro glitter bianchi di slime 2020 che bello e però non mi ha detto chi sei no vabbè che carino guardate penso che siamo io e lei probabilmente che bello ci sono io che faccio il cuoricino così c'è un micio che bello ti prego no si è indurita no 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 mi piange il cuore no voglio piangere voglio piangere ma io ti ringrazio per il pensiero perché sei stata dolcissima non c'è scritto il suo nome ma io veramente mi complimento con te per quanto riguarda tutto l'impacchettamento il disegno il pensiero che ha avuto per me per questo slime che guardate qua comunque come scintillata sembra quasi una saponetta che bendola la lash procediamo col prossimo che questo ciao io le questo è un piccolo pensiero che ti ho fatto perché ti ho fatto da raffaella e tati ai ricci di olanda questa è la mia fan page giusto ok vediamo scusami se lo apro solo adesso ma posso dire sono pessima per non dire altro allora questo è uno slime oro wow 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 che meraviglia penso sia fatto con la colla vinilica fammi sapere mi mi dispiace spero che tu veda questo video se lo vedi fammi sapere su instagram come hai fatto questo slime penso con la colla vinilica con quale colla però non si sa fammelo sapere con le palline ok e c'è questa stellina qua che è uno charm credo che ha colorato anche un po lo slime ok lo slime è un po duretto allora vogliamo fare una cosa me lo impongo perché adesso sono stata cattiva e quindi lo voglio fare gli slime un po più difficile un po più duri o anche sciolti li andiamo ad aggiustare insieme in un prossimo video poi fatto da me da chiara ok grazie chiara vediamo com'è ok questo qua forse è un po più morbido cosa c'è dentro ci sono delle roselline allora questo dovrebbe essere una specie di crimine anche questo ragazzi io mi ve lo giuro mi mangio le mani così guardate mi mangio le mani a morsi mannaccia la miseriaccia anche questo è un po solido questo forse no questo forse non aspettate allora c'è un'altra rosellina la parte di sotto è un po più solida rispetto alla parte di è un vabbò ciao Yolanda ciao Yolanda voglio dire la parte di sotto è più morbida della parte di sopra procediamo con questo qua è bellissimo perché c'è stata proprio la cura nei particolari vediamo la letterina allora da martina alessia un bacione te dobbiamo per usare in un video certo ok eccola questa che ce l'ha scritto perfetto vediamo spero che non sia ok ok bellissimo rosa barbie è molto rosa barbie che bello oddio ma sapete che ha un profumo buono ma il barattolo che profuma no perché sembrava profumasse tipo di biscotti questo slime è tipo gigloso però molto elastico con dentro dei glitter comunque oro allora c'è questo che dentro questa scatolina molto bella mannaccia mannaccia questo lo dobbiamo per forza andare a modificare allora questo slime com'era sicuramente morbido era un clear e aveva dentro i pompon poi uno slime gigante che mi hanno regalato che è qua dentro da federica per gli ole wow allora che bello allora penso che questo lei lo abbia comprato ma basta il pensiero potessi preghe l'ha modificato basta il pensiero ragazzi mamma mia come bello però elasticissimo guardate wow allora io adoro gli slime gigli ve l'ho detto più di una volta gli slime gigli però quelli elastici e questo lo è infinitamente cioè guardate qua quanto elastico questo quanto si allunga sto slime fa anche le bolle no raga aspettate proviamo a fare una bolla c'era quasi riuscita e ritornata indietro mannaccia però è bellissimo oddio è bellissimo poi procediamo a questo slime c'è sì c'è il nome da alessia sopra la parte glitterata oh mio dio wow alessia poi ragazzi vi prego fatevi vivi fatemi sapere voi chi siete sotto in un commento magari se ci sono i commenti oh mamma mia guardate la perlescenza di questo slime raga ma di cosa stiamo parlando la perlescenza è il tutto viva la perlescenza c'è la schiuma da barba dentro qua penso la schiuma da barba gli abbia dato la perlescenza il colore sembra quasi un rame rosa poi questo che è da sofia in questo barattolino che è anche abbastanza gigante oh mio dio oh mio dio sembra uno slime al cioccolato wow oh mio dio no vabbè raga cioè ma di cosa stiamo parlando no vabbè sofia cioè come sempre very top ma sentite quanto scoppietta io ti faccio i miei più sentiti complimenti no ragazzi io sono negata con le bolle passiamo a questo qua che purtroppo non c'è il nome vediamo wow che consistenza strana non credo credo l'abbia fatto tu non so chi l'abbia fatto che bel cuoricino che mi hai attaccato sopra fatti viva se riconosci la tua confezione ti ne prego con questo cuore bellissimo sopra doveva essere tipo sembra tipo un gummy slime rosa con i glitter vi siete un po' messi tutti d'accordo tutti i glitter oro dentro poi c'è questo che io mi ricordo ancora che quando mio padre disse Yolanda ti hanno regalato un gabinetto slime io dissi adoro adoro lo devo poi aprire in un video allora qua c'è il nome di chi me l'ha regalato vediamo slime per Yolanda da Desiree glossy slime unicorn candy crunchy slime bagno slime adoro fluffy snow slime kinder slime spero ti piacciano certo allora vediamo spero che non sia successo niente agli slime lo spero vivamente ok allora ovviamente partiamo dal mio preferito ossia il bagno slime oddio oh mio dio no vabbè ok c'è un cuore grazie che bello è bellissimo poi è morbidissimo kinder slime vediamo com'è è un po' piccicaticcio ma che con la neve credo sia con la neve strano ma vero ragazzi si è un po' sciolto invece di indurirsi si è sciolto stranamente e questo è il kinder wow si comunque c'è la neve dentro è tipo un icy un icy slime io ti dico complimenti per l'inventiva desilè veramente poi c'è questo allora chi me l'ha fatto claudia ok su instagram ah ok ti trovo anche su instagram quindi contattami se vedi questo video cola prima schiuma da barba pastelli a cera uh gel per capelli crema bicarbonato acidoborico ok vediamo com'è forse se si è un po' scioltino non ci sono problemi possiamo prendere l'addensante però ragazzi vedete almeno questo qua mannaggia non si è indurito è meno male direi c'è questo da angela per yolanda e daniele lo slime blu si illumina ah wow vediamo com'è da solo la parte sopra purtroppo si è un po' seccata stesso il stesso qua la mia stanza però il resto è la life ma di cosa stiamo a parlare si illumina in che senso si illumina il buio forse si perché ci hai messo il pigmento adoro no vabbè adoro hai messo no vabbè cioè ragazzi è bellissimo questa parte qua si è un po' indurita mentre la parte rosa è la life più totale per yolanda e daniele da parte di chiara e giada e ciro e sofia ok ciro e sofia vediamo un pochettino vi vogliamo bene grazie anche noi vi vogliamo tanto bene allora ah ma è tipo un party slime oh bello perché è un party crunchy questi sono gli slime che amiamo da carla maria che bellino c'è una pizza con un dinosauro sopra che cute questo contenitore no vabbè adoro adoro troppo ma la meraviglia di questo slime raga ne vogliamo parlare ma sei stata bravissima carla maria ma poi queste pisla non sono come quelle che ci sono da come si chiama da ikea ma sono color pastello e sono la life più totale da rosa per iole allora rosa mi aveva fatto questo slime con la colla trasparente così azzurro blu e questo qua che doveva essere un butter azzurro blu ok grazie mille a tutti per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto che vi abbia ovviamente tenuto compagnia e strappato un sorriso in questa domenica io vi voglio tanto bene vi mando un bacione ed un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle ore 14 e 30 con un nuovo video bye